Sembrava che l'intervento di Pechino fosse bastato, i fondi di stabilizzazione, il divieto di vendite allo scoperto, i titoli sospesi dagli scambi. E invece, dopo tre settimane di calma apparente, l'esplosione di una nuova bolla getta nel panico i mercati finanziari cinesi. Lunedì, i principali indici dell'ex impero celeste hanno perso entrambi oltre otto punti percentuali. Nonostante le recenti misure prese dalla Banca Centrale per stabilizzare i mercati, la percezione diffusa è che non abbiano avuto effetto. Con il crollo di oggi le persone si ricorderanno dei recenti cali. Dopotutto l'ultima frenata è stata tragica ed è ancora ben stampata nella memoria delle persone. Per cui, nel breve termine, queste percezioni diffuse potrebbero far fluttuare molto il mercato. I ribassi, andati oltre la semplice reazione ai dati sottotono sull'economia cinese, hanno influenzato le altre borse. Tokyo e Hong Kong hanno chiuso in negativo e l'ondata di pessimismo ha investito anche l'apertura delle borse europee. La Cina è vitale per l'economia mondiale. Se le cose continuano così, la sua banca centrale si metterà anch'essa a comprare azioni. La Cina non può indebolirsi. Se succederà, l'intera economia mondiale finirà nei guai, facendo sembrare la crisi greca uno scherzo. Per alcuni è l'intervento di Pechino il problema. Per altri le perdite di giugno hanno traumatizzato gli investitori in un meccanismo di paura che genera altra paura. Per altri le perdite di giugno. Per altri le perdite di giugno. Grazie. Grazie.